Dario Della Gata, quale valore ha Stelle nello sport per il movimento paralimpico? Ma è storia, nel senso per il movimento paralimpico è senz'altro un punto di riferimento, è sempre stato un punto di riferimento. I nostri ragazzi si sono sempre, come dire, distinti anche rispetto a queste gare di carattere mediatico tra le altre cose. E quindi potersi anche scimentare in momenti gioiosi, come è questo evento, è senz'altro un aspetto estremamente positivo. È importante portare il messaggio dello sport paralimpico nelle scuole, Stelle nello sport in collaborazione con il CIP lo fa, con campioni del calibro di Francesco Bocciardo e molti altri ancora. Assolutamente sì, noi vogliamo dare anche su questo, vogliamo fare un salto di qualità, laddove l'integrazione passa anche attraverso un momento, è un elemento rivoluzionario che è quello di individuare le eccellenze anche all'interno della disabilità. E quindi questo ci serve perché si possa andare come Francesco a vincere medaglie alle Paralimpiadi.